Ghiadano Lorefice, anche questo è fatto, la decima edizione è andata via, successo di pubblico, di partecipanti, ora non dirmi che già da questa notte pensi all'undicesima edizione? No, non ci penso, mi guado però questo spettacolo che è riuscito tutto sommato abbastanza bene, non ha più avuto come abbiamo temuto a un certo punto della serata, siamo contenti, grazie. Hanno vinto i più bravi? Secondo me sì, ma ce n'erano tanti altri che avrebbero vinto un'altra edizione che ci fosse stata, ma purtroppo oggi, quest'anno erano concentrati i migliori talenti della Sicilia, credimi. Quando si taglia il decimo traguardo c'è sempre una dedica particolare? No, io questo festa lo dedico soltanto e semplicemente ai miei collaboratori più seti che sono alla fin fine la mia famiglia, nessun altro, credimi, nessun altro. Tutta sincerità, credevo che dicessi tua moglie, non l'hai detto subito, però va bene uguale? No, no, perché c'è anche mia figlia che ci dà una mano. La loro bravura ha alzato il livello del decimo festival del golfo, meritavano tutti veramente con la loro bravura di essere presenti a questo che è stato un bel traguardo per noi. Poche manifestazioni a Gela hanno questa durata, si fermano tutti al secondo o terzo anno. Noi siamo riusciti ad arrivare al decimo grazie alla testardaggine, alla caparbietà di mio marito che per l'organizzazione del festival è instancabile. Ma non l'hai visto in questi giorni il tuo marito perché ha staccato la spina per dedicarsi al festival? Sì, sì, guarda, solo festival. Tu considera che ogni anno rinuncia alle ferie pur di dedicarsi al festival e a far riuscire questa manifestazione. Però da domani potete dedicarvi alle ferie? Ma insomma, da domani no, ma ad ottobre ci penseremo. Ma insomma, da domani no, ma ad ottobre ci penseremo.